Francesco, eh? Ma è venuto a fare la prima impresa e il trago? Non sopiro, non sopiro! Ciutadami 2 si preparano Leonardo, Giulio, Giudo Mestre 2001 Girelli, Tommaso, Giudo, Team Gargano Di chi esco? Non sopiro! Questa è la strategia, un bavaro che andiamo a portarli in giro Ciutadami 3 si preparano In questo lato, in questo lato, andremo Vincenzo, Tommaso, 1 No, l'ho trovato in giro, guarda qui Come no? Allora, il padre di Andrano ha detto che è al parco Il padre di Gabriele firma Gabriele Sì, stai niente Guarda, Fidro, Fidro, Fidro Tu, firma l'uno Firma lui Eh, ma devo andare da Gabriele e da Fangiracuccia Tommaso, Gattere, Martin, Poltro, Gabriele Sì, Sì Molto bene Bravi Tommaso, Gattari, Sue, Dionordi, Giulio, Girelli, Tommaso Dai, Ricci Dai, Ricci Dicci Più di giù Più di giù Più di giù Più di giù, entra Più di giù, entra Più di giù, entra Entra, Francesco, entra Muovilo, entra Muovilo, entra Sì, Gattari Bravo Si preparino Pagà Alberto Judo Mestre 2001 E Amatore Alessandro Judo San Chiudi sulla spalla, Francesco E un'altra gamba Vede, prena il cordo Vede sul cordo Altro braccio e con la testa Rikci Questa non la deve appoggiare Questa non si deve appoggiare dai Ricchi ��i dai Ricchi dai 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 chi è sopra Francesco porto bene allora sopra ora ancora, ora sul tolo per il nostro aperto prendeci dolci, prendeci dolci e tira, braccio dentro la testa braccio dentro la testa e ci comprazio si girano, girano, molto bene così bellissimo sempre così dai Ricci dai Ricci due male bella lì sei buono buono ancora Ricci dai Ricci dai Ricci dai Ricci subito dai Ricci subito chiudoli si si e qua il Ricci sta chiuso Ricci occhio Ricci di sopra entra subito dai Francesco dai giudila Francesco dai tu hai nido più di basta vai a prendere corri corri entra subito entra 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 dai Francesco entra bravo 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 buona